Musica Si, sono artigianali, completamente artigianali Di cosa sono fatti? Ci sono vari materiali? Varie tecniche, i materiali sono perline e le perline sono in vetro Ah e quindi quanto ci vuole più a mano per realizzarlo come tempistica? Due o tre ore e anche più, dipende dal pezzo Uno potrebbe anche decidere di fare, io qua per esempio vedo oggettistica tipo gioielli Però se uno volesse avere sempre una bamboniera Si, si possono realizzare le croci, ricordo come ho già fatto alcune volte E voi dove siete esattamente? Io vivo a Rende, non ho un laboratorio, lavoro a casa, sono un hobbista Ah ok, però magari non so se uno volesse vedere i lavori Si, si Ok, e adesso allora insomma facciamo in sovrimpressione andare Sarebbe Caruso Creazioni Si, bigiotteria artigianale Benissimo, ok No no, perché sono tutte cose molto belle Tutto fatte a mano Tra l'altro sono cose molto estive Vabbè adesso siamo nella stagione estiva Poi prepariamo la stagione autunnale Grazie Grazie Grazie